Salvatore, quanto è stato importante tornare al successo contro il Carpi, un successo di misura, ma sul campo c'è stato praticamente un dominio bianconero? Molto importante, perché poi la settimana prima abbiamo avuto una battuta d'arresto, quindi non era facile fare la prestazione e cercare comunque tre punti contro un Carpi, che è comunque una squadra compatta, una squadra ostica, una squadra che ha sempre creato difficoltà a tutti. Noi siamo stati bravi sia di reparto che collettivo a impedire le loro giocate, quindi siamo molto soddisfatti e adesso c'è solo da preparare a meglio la partita di Livorno. Ottima anche la tenuta difensiva, praticamente non avete concesso nulla a Moculo e compagni. Sì, infatti è proprio questo che ha sottolineato anche il mister, perché comunque è una squadra che ha sempre le palle lunghe, così prima o poi in 90 minuti qualcosina crei. Noi siamo stati molto bravi sia nel reggere fisicamente Moculo e sia con l'appoggio dei centrocampisti nelle seconde palle, quindi siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Positivo anche il tuo rientro, come stai fisicamente? Hai avuto qualche problemino? No, no, bene, bene. Adesso col lavoro riuscirò anche comunque a stare meglio anche fisicamente, non ho la condizione, però penso che sto a un buon livello, quindi adesso c'è solo da lavorare. Con te la Verone, ora questo a 7 a 4 è quello che offre maggiori garanzie, la squadra era partita quest'estate con il 3-5-2. Sì, sì, ma il mister ha scelto un modulo che comunque ti permette, secondo me, di giocare al meglio, no? Sei magari anche un po' più coperto, quindi lavoriamo tanto anche in settimana, però al di là di chi sta impiegando adesso siamo tutti importanti. L'abbiamo visto anche quando magari non c'era io o Valentini, così gli altri si sono fatti trovare molto pronti e hanno fatto secondo me una buona gara. Ascoli a caccia di continuità, andremo sabato al Picchi di Livorno. Ieri la squadra di Lucarelli ha perso di misura sul calcio di rigore a Benevento. Che sfida sarà, ovviamente, guai a sottovalutarla? Sì, sì, come ho detto prima, noi innanzitutto bisogna lavorare come stiamo facendo, poi con grande rispetto, con grande umiltà andiamo lì, pur sapendo che al di là delle punti in classifica che hanno è una buona squadra, perché anche ieri abbiamo visto contro il Benevento hanno fatto, forse hanno creato 4-5 palle gole, quindi bisogna stare attenti e avere anche rispetto negli avversari. Diamanti il loro uomo, tra virgolette, più pericoloso? Vabbè, Diamanti lo conosciamo, ha qualità che in un momento all'altro ti può inventare la giocata, bisogna stare molto attenti, ma al di là di Diamanti anche in attacco c'è gente con grossa qualità, però secondo me se lavoriamo come abbiamo fatto sia col Carpi e anche il partito precedente, con questa attenzione qua, riusciremo ad ottenere punti importanti. Anche perché immagino uno spogliatoio ci sia, voglia di ottenere la prima vittoria in trasferta, a Foggia ci si è andati vicini, giocando alla grande, ma purtroppo è arrivata una sconfitta, bisogna anche per guardare più in alto in classifica trovare un colpaccio in trasferta. Sì, sì, infatti l'analisi è perfetta, sicuramente andare lì e fare tre punti sarebbe il massimo, quindi anche perché poi ti permette di allungare anche la classifica e lasciarli un po' indietro, parlando di classifica, quindi con grande umiltà andiamo lì a fare la nostra gara. Hai parlato della classifica, tu conosci bene il campionato cadetto, anche col fatto dei turni di riposo, che idea ti sei fatto? Rispecchia i valori in campo attualmente? Attualmente sì, poi è chiaro che ci sono state partite dove meritavi di più e non hai ottenuto nulla, però io penso che è un campionato talmente lungo che prima o poi prendi quello che ti merdi.